Mi trovo qui sotto le porticini comuni con le marzi per sottola 40 oggi 18 agosto 2023 Qui l'acqua non c'è, tocca, se non poteva passare di qui, qui diciamo i canali più puliti qua Ecco, non è molto questa storia. Allora, quando c'è l'acqua in eccesso vengono utilizzate queste tre gallerie Questa, quella e questa. Questa acqua ha bisogno di una manutenzione e di una pulizia Ecco qui, vedete, c'è flash cam, non ci vuole nulla per pulire. Guardate, come sono belle queste porticine I muri sono ancora integri, i muri a pietro, ad arco Questo dovrebbe essere realizzato nel 1958 La maggior parte sono opera della cassa del mezzogiorno Adesso, scendo piano piano qui, guardate, non c'è l'acqua qui Guarda, scendo piano piano, non ci sono passate E dove guardate, il cemento Che c'è l'acqua? Verde, scendo una rondine Ci stanno la rondine, il palcetto Sembra la famiglia della rondine, so Guardate qui Bella queste porticine, eh Lo risalgo qui Piano piano Sono abbastanza agile, anzi molto agile Anche qui l'acqua è pochissima Guardate, là ci sarà 60 cm Ieri c'è stata la pioggia, eh Ma qua domani non c'è niente acqua Qua c'è il trattore che sta lì, se senti rumore Ecco le porticine Andiamo un po' da questa parte e vediamo che c'è Questa è l'opera della Cassa al Mezzogiorno 1958 Qui c'è l'erba Anche qui è un po' umida Bella, eh Ecco dove io le sono a nuotare Ma l'acqua era limpida, eh Hai visto la monnessa come la nuova, eh Ah, qui c'è da aggiungere una cosa, eh Questo è il tratto integrale del 1958 E poi Sì, ah, questa è completa Solo che dopo qua sopra è stata asfaltata la strada C'era una strada, non era asfaltata Vabbè fammoli salire Ma bisogna essere agili Ma bisogna essere agili Guarda che panorama fa Bello il panorama vicente, eh Ah, fammi ripiegare la bicicletta Sì Sì Grazie Grazie